La storia vera di Luigi Di Cicco che ha scritto nel libro con Michele Cucuzza e poi da qui è stata tratta la sceneggiatura. È un film sociale perché parla della storia di un ragazzino che è vissuto in una famiglia di camorristi e a tutti i costi vuole cambiare vita e ci riesce perché ognuno di noi ha diritto a una vita normale. Il tema della camorra ma con un finale positivissimo, quindi diverso dalle altre storie e quindi insomma Gramigna è proprio questa. L'erba cattiva che non muore mai invece in questo film l'erba cattiva muore. Il ruolo è un ruolo molto drammatico, Maria, sono la cognata di Biagio Izzo perché in questo film c'è Gianluca Di Gennaro, Biagio Izzo, Enrico Loverso, Teresa Saponangelo, poi ci sono io e tanti tanti altri. Una donna a coraggio che a tutti i costi vuole nascondere al figlio che appartengono comunque a una famiglia di camorristi. Il primo perché è girato ad Aversa, a Napoli e a Civitavecchia. Il secondo perché parla di una storia veramente accaduta e raccontata prima in un libro e poi in un film. Nel libro da Michele Cucuzza con Luigi Di Cicco che è vero figlio del boss, ancora in vita. E poi invece la sceneggiatura del film di Camilla Cuparo che è una sceneggiatrice per me secondo me una delle giovani più promettenti. Un altro motivo perché ci siamo noi che siamo tutti napoletani e poi perché questo film vi farà capire tante cose ed è un film che vi lancerà tanti messaggi sia negativi che positivi. Un bacio da Anna Capasso. Un bacio da Anna Capasso.